Buongiorno, sono Giuseppe Pazzini, analista 3 per trovare il blog FibonacciStalking.it posto anche regolarmente su Twitter utilizzando il nickname Fibstalker e buongiorno, oggi è il lunedì 4 marzo 2013, sono le 1.20 del pomeriggio questo video è parte della mia review settimanale dell'Eurodollaro che è parte della newsletter di Fibstalker di solito invio questa newsletter la domenica, come forse saprete nelle ultime due settimane sono stato coinvolto nelle elezioni nazionali italiane e regionali della regione in cui vivo per cui ho dedicato meno tempo al trading e all'analisi da questa settimana sono tornato regolarmente a fare trading full time e quindi tornerò anche a pubblicare le informazioni così come faccio di solito quindi c'è da aspettarsi anche il midweek update l'aggiornamento infrastrutturale che spedirò mercoledì in questo video normalmente faccio una review e un forecast del prezzo dell'Eurodollaro partendo dai time frame più alti e poi scendendo in dettaglio verso quelli più bassi modo da mostrare che cosa potrebbe accadere al prezzo dell'Euro nelle prossime settimane e mesi partiamo quindi dal settimanale quello che vedete sullo schermo è il grafico settimanale del contratto Eurofax Currency Futures stato il CME e il contratto continuo con scadenza marzo 2013 coloro che mi seguono sanno che sull'Eurodollaro al momento abbiamo identificato un livello di supporto dai minimi del 2001 ai massimi del 2008 e questo era di supporto in area 91 e 30 è stato già rispettato due volte a metà 2010 e a metà 2011 in particolare a luglio 2012 c'è stata l'inversione del movimento dell'Euro in corrispondenza a quella di questo era di supporto dove è attesa partecipazione al rialzo in quella l'occasione per la reazione verso l'alto è stato il discorso in cui Draghi dice avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare l'Euro e quello che vediamo quindi sullo schermo è un grafico in cui c'è stata due volte la reazione a questi livelli quando la sequenza di movimenti misurati verso il basso viene interrotta dopo una partecipazione al rialzo in area di supporto quello è un segnale di termine del movimento verso il basso inizio del movimento verso l'alto e coloro che mi seguono sanno anche che negli scorsi mesi dopo la rottura al rialzo di settembre della sequenza di movimenti a ribasso abbiamo eseguito il timing di un nuovo livello di supporto mi aspettavo che arrivasse più in basso questo livello in realtà è arrivato in area 1.2680 e portando il prezzo al primo target in area 1.3440 mi aspettavo anche che il prezzo raggiungesse come fatto in passato il secondo target in area 1.3840 ma questo non è mai avvenuto ma la sequenza di movimenti misurati del rialzo è fallita e in particolare il movimento di estensione in cui ho mostrato c'è stata una virazione verso il basso di 1.3390 e a seguito di quello ho indicato ho anticipato che il prezzo avrebbe ritracciato tutta la distanza dai minimi e massimi in area 1.29 quindi stiamo approcciando quest'area in corrispondenza all'area 1.29 rimuoverò anche la mia posizione swing a ribasso e a questo punto quello che mi attendo è un rimbalzo verso l'alto e in questo numero della newsletter ho anche fornito un piano di trading che però è spiegato in inglese relativo a quello che possiamo aspettarci per il prezzo dell'aerodollaro nelle prossime settimane quindi nelle prossime 20-30 sessioni come si può vedere questo livello di supporto in area 1.29 a un primo target in area 1.41 quindi se il prezzo non scende al di sotto del livello 1.27 quello è il livello 1.41 potrebbe essere il livello dove potremmo vedere il prezzo dell'aerodollaro nei prossimi 3-5 mesi ciò significa ovviamente anche una debolezza corrispondente a debolezza del dollaro voglio far notare come il livello di supporto di lungo termine è 1.29 e 30 che ho indicato prima che è molto più facilmente visibile restringendo la scala ha un livello di primo target in area 1.76 se questo può sembrare estremo al momento per ricordare che il prezzo dell'aerodollaro ha raggiunto quota 1.60 e in caso di debolezza particolare del dollaro vedere l'euro a 1.76 sul dollaro non è impossibile ovviamente questo avrebbe delle grosse ripercussioni sulla capacità di esportazione dell'Europa spostandosi al grafico giornaliero e mostro di nuovo il livello di supporto che ho anticipato dovrebbe essere raggiunto probabilmente questa settimana e al momento l'euro dollaro su questo time frame giornaliero sta essenzialmente seguendo un setup che è dai massimi del 25 febbraio ai minimi del giorno successivo e c'è questo livello area 1.31.70 che è anche un'area di ingresso short che ha due target uno in area 1.29.50 e il secondo in area 1.28.30 1.28.40 non è qui mostrato su questo video ma il secondo target è allineato anche con la media a 200 giorni che di solito vede una forte partecipazione da parte soprattutto di trader retail quello potrebbe essere se il prezzo buca l'area 1.29 potrebbe essere un'area dove il prezzo potrebbe fermarsi e potrebbe dunque incominciare il movimento al rialzo qualora il prezzo dovesse raggiungere questo livello sarà importante monitorare il livello 1.30.40 al di sopra di questo livello e per me sarà confermata l'area di supporto che incomincia in area 1.29 e questo è tutto per questo video vi ringrazio per l'attenzione e come molti sanno pubblico questi video con 10-15 giorni di ritardo sul mio blog potete trovare tutti i video già pubblicati nell'area Forex del blog che è un'area aperta e gratuita e vi ricordo anche di guardare il video che però è fornito solamente in inglese sul trading plan per l'euro-dollaro andando per i prossimi giorni e settimane vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona settimana vi aspetto sul blog per commenti se potete sottoscrivere la newsletter è sufficiente andare sull'home page e con pochi secondi per sottoscrivere l'elemento grazie per l'attenzione e a presto